Benvenuti nel mondo di Jakob & Co. Jakob & Co. è un marchio di orologi di lusso fondato nel 1986 da Jakob Arabo, un gioielliere di origine russa. La società ha sede a New York e produce orologi di alta gamma con design innovativi e complessi, spesso caratterizzati da diamanti e altre pietre preziose. Jakob & Co. ha collaborato con celebrità e atleti di alto livello, creando orologi personalizzati per loro. Tra le celebrità che hanno indossato orologi Jakob & Co. ci sono Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Lebron James. Ma non solo, Jakob & Co. ha stretto partnership anche con marchi di grande prestigio, come la nota casa automobilistica Bugatti, per la quale Arabo ha creato un'intera collezione limitata, la Bugatti Chiron Tourbillon. La Maison offre una vasta selezione di orologi, tra cui modelli personalizzati per i clienti più esigenti. Inoltre, con la sua tecnologia all'avanguardia e la sua attenzione ai dettagli, gli orologi Jakob & Co. sono un investimento sicuro per chi cerca un orologio di lusso di alta qualità. Il primo grande successo di Jakob & Co. arriva nel 2002 con il Five Time Zone. Questo vistoso segnatempo dalla funzionalità GMT presenta una lunetta diamantata e un quadrante che mostra cinque fusi orari diversi contemporaneamente, tra cui quello di New York, Los Angeles, Parigi e Tokyo. La dirompente estetica di questo orologio attirò subito l'attenzione di molti personaggi famosi, come Naomi Campbell, Bono Vox, Jade Zee, Drake e 50 Cent, che portarono un'incredibile popolarità al marchio Jakob & Co. Ma è il modello astronomia tourbillon a rendere Jakob & Co. una tra le migliori Maison di orologi di lusso al mondo. Questo capolavoro di ingegneria è diventato famoso per la sua complicazione tridimensionale. Le parti mobili agganciate a quattro braccia meccaniche includono un globo terrestre in miniatura, un diamante che simula la Luna, un tourbillon a tre assi e un subquadrante dedicato alle ore e ai minuti. Questi componenti e l'intero meccanismo girano costantemente attorno al quadrante, creando un affascinante spettacolo meccanico che cattura l'attenzione e lo stupore di chiunque lo osservi. Sono poi diventate moltissime le creazioni di Jakob & Co. che hanno incantato per la loro meccanica unica e per l'ingegneria eccezionale, come il modello Scarface e l'Epic SF24. Ma ci sono modelli che mostrano anche l'abilità dell'alta gioielleria di arabo, come il Billionaire e il Mystery Tourbillon, due segnatempo impreziositi da un'incredibile quantità di pietre preziose. Insomma Jakob & Co. è uno dei marchi di orologi di lusso più riconosciuti al mondo. La sua innovazione meccanica, il design senza pari dei suoi orologi e l'abilità dell'alta gioielleria, hanno reso molto popolare Jakob & Co. tra le celebrità, i collezionisti e gli appassionati in tutto il mondo.